Se sei per me, questo non serve Gesù Il prossimo pezzo, il prossimo pezzo è un pezzo speciale, un pezzo particolare Innanzitutto è un pezzo che sicuramente riconoscerete, avrete sentito Vieni qua Eva, è una piccola offerta Eh non voglio che mi die, la metto con il telefonino che lo faccio col tuo, ti piace? Ti piace questa qui, è bella così, scusate, mi pazienza, scusate Ti metti in me... Si, guarda un po' guarda un po', guarda un po', guarda un po', guarda un po' Indica con la ditto qualcosa Guarda un po' Tento fotografero dopo compro Speriamo che funzioni Non ti piace, mamma mia Non si trova, ma non si trova Appunto Belli, scusa eh Belli, belli, se ne compro uno vuoi? Se ne compro uno, per Natale Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.